vi presento solo un paio delle mie coffe queste sono quelle grezze che io realizzo sono l'unico a realizzare questa coffa siciliana perché ormai non abbiamo più diciamo chi le costruisce a parte me mi è rimasta per tradizione perché allora si costruivano adesso si fanno per bellezza infatti come vedete qua sono più rifinite rispetto a quelle di prima sono le classiche coffe che si usavano per i carrettieri e sono le originali non sono le borse della spesa che voi siete abituati a vedere i tempi d'oggi quelle fatte in palmanana quelle sono le borse della spesa non sono le cose comunque non mi voglio prolungare in questo discorso perché insomma voglio fare questo video probabilmente per far vedere quale sono le vere coffe le vere coffe come sono realizzate vedete queste sono le vere coffe non sono in palmanana quelle palmanana sono le borse per la spesa chiamate non so perché coffe vabbè comunque in questo video vi faccio conoscere le vere coffe realizzate come ho detto prima da me questi sono soltanto alcuni modelli delle mie coffe mastro santo se volete potete visitare la pagina facebook mastro santo oppure su shopp.app la parola mastro santo shoppi è visitato a livello mondiale lì insomma mi sono aperto questa pagina per farle conoscere anche altre tipologie di lavori che io faccio tipo il cesto siciliano che ormai sta sparendo pure quello ma insomma c'è molta gente che si adopera a realizzare dei prodotti di cui non sanno nemmeno le origini io sono come si dice un figlio d'arte in un certo senso da noi era tradizione nelle campagne perché provengo da famiglie di allevatori agricoltori quindi noi si usava costruire durante il periodo che non si poteva entrare nelle campagne si raccoglieva il materiale per poter realizzare sia i cesti sia sia le coffe per dare da mangiare diciamo alle bestie quando tiravano il carretto e niente tutto qua in questo video queste sono le vere coffe chiamate coffe siciliane il resto non so vedete voi non troverete non troverete nessuno che realizza questo questa coffe perché realizzate in una maniera molto particolare non è facile realizzarla se non si sa la partenza e come si deve realizzare questa qua è il mio prodotto guardatelo bene mastro santo su shop.app quindi potete anche visitarlo lì potete vedere qualche prodotto mio o se no sulla pagina facebook sembra la parola mastro santo grazie a tutti buona giornata